Gli indumenti intimi di Pierina, la sua gonna, la borsa col manico danneggiato e quelle impronte sul muro sono al centro della giornata di oggi al Tribunale di Rimini. Di fronte al giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, tutte le squadre, dall'accusa alla difesa fino alle parti offese, si sono confrontate sull'incidente probatorio proposto dal legale di Luis D'Assim. L'obiettivo è capire se ci sono tracce dell'unico indagato per l'omicidio sulla scena del crimine e farlo con le massime garanzie. Una delle ipotesi del team del metalmeccanico senegalese è che il luogo del delitto possa essere stato contaminato da Manuela, che il giorno prima dell'uccisione dell'anziana aveva prelevato alcuni vestiti sporchi di sangue del 34enne. Eravamo d'accordo che li portassi via io, se poi dopo hanno voluto dire altro, questa è una menzogna. Tu non li hai utilizzati per incastrarlo come qualcuno suppone, prendendo il suo DNA da quei vestiti e posizionandolo sulla scena del crimine, una ricostruzione che secondo te è fantasiosa? È una ricostruzione diabolica, non fantasiosa, diabolica. Certo, se uno ha un abito sporco di sangue e lo mette a contatto con un oggetto, quello si sporca del sangue. È il cosiddetto trasferimento secondario, addirittura è stato dimostrato un trasferimento terziario, cioè io do la mano a lei, lei la dà a lui e lui poi alla fine ha il mio DNA sulla mano. Siamo tranquilli, ma noi la ribadiamo è persona offesa, quindi siamo tranquilli e siamo fiduciosi nel lavoro della procura. Per l'occasione il GIP ha nominato un super perito che soprassiederà gli accertamenti irripetibili. Si tratta del professore di genetica Emiliano Giardina, colui che consentì agli investigatori di inchiodare Massimo Bossetti, il killer di Iara Gambirasio. L'esperto ha sempre sostenuto che la scienza serva a incastrare i colpevoli, ma anche a scagionare gli innocenti. Il assistito è sereno, però purtroppo sa che c'è un problema importante da affrontare e vogliamo uscire nel miglior modo possibile, soprattutto difendendoci. Lui sa, ha le sue convinzioni, sa quello che ha fatto, cerca di difendersi al meglio e di fare emergere la verità.